Si è conclusa nei giorni scorsi, ma è nata diversi mesi fa, l'operazione Blow della Polizia di Frontiera di Domodossola, coordinata dal PM Gianluca Periani, contro lo spaccio di stupefacenti. Sono in tutto 17 le persone denunciate, delle quali una alla Procura per i minorenni di Torino. Tutto era cominciato con l'arresto di un giovane NP implicato in un'attività di detenzione spaccio di marijuana ed ecstasy. L'indagine è stata caratterizzata da numerosi elementi di prova raccolti tramite intercettazioni telefoniche ambientali e riscontri sul campo. L'attenzione degli uomini del commissario capo Paolo Maisto si è focalizzata su un 33enne e il domese Giuseppe Carbone, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, più volte denunciato e arrestato per detenzione e spaccio di droga. La polizia ha accertato che l'uomo gestiva flussi di marijuana e minor quantità di cocaina. Secondo gli inquirenti sarebbe stata la figura di riferimento non solo per i consumatori ma anche per i grossisti. L'indagine ha permesso di ricostruire un filone della Spanish Route della Guardia di Finanza di Malpensa che ha portato all'arresto di 12 persone per traffico internazionale di droga. Due delle persone coinvolte in quell'attività, due albanesi Igli Muka e Nicolini Ghieita, risultavano tra i fornitori di carbone. Un altro albanese, Khmeili Bali, era stato arrestato nel 2016 mentre consegnava a Carmone due chili di marijuana. L'attività di indagine ha permesso di denunciare altri soggetti a Legnano, Varese e Novara, Yetmir Pemai, Anton Arnalli, Jane Trimal e Lorenc Cruia. È anche stata indagata una cubana, Yulei di Caridad Valdezper, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In tutto sono stati sequestrati 3,5 kg di marijuana, cellulari e SIM card e 4.000 euro in contanti.